la cam no vi siete persi una cosa assurda no a me non funziona la chat a me si ragazzi vi leggo nessuno ha il mod nessuna la sub tranne princess lucia sono nudo ma ora si sta riprendendo ora vedo tutto ci vuole solo del tempo si sta riprendendo piano piano il sito la cam no vi siete persi una cosa assurda no ragazzi non potete capire che cosa ho combinato no ragazzi non potete capire cosa ho combinato no raga no ragazzi viango ho fatto una cosa allucinante no 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 partita allucinante ce l'hai imbottato al posto delle mani no è che mi alleno tanto sto volando per lo Yemen ragazzi analista c'è qualcuno ma la gente dov'è cioè ragazzi non so se vi siete resi conto ma non sto trovando nessuno da boh eccolo no ragazzi serio che partita sono no 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 ok 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 Grazie. Tosto. Felicoloso. 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 Grazie a tutti. Oh, let's get it, con l'edit, pulitissimo, pulitissimo boys, let's get it, bello proprio. 52% pure di accuracy, è stato l'analista sicuramente.